Riprendono presso la Biblioteca della Regione in via Confienza a Torino gli appuntamenti legati al progetto Piemonte da leggere, dedicato alla presentazione di volumi di diversi autori ed editori, accomunati da un unico filo conduttore. Nel primo appuntamento, il 2 marzo, sono presentati libri Un'indagine coi baffi, di Graziella Ardizzone, e I pelagra, di Giuseppe Furlano, entrambi editi da Bai Maronchetti. Si prosegue tutti i mercoledì, con ingresso gratuito, sino ad esaurimento posti.